Musica Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xuder e ragazzi oggi mentre aspettiamo l'arrivo della modalità High Stakes L'arrivo della nuova skin voglio parlare con voi Voglio fare un quiz insieme a voi solo per i veri giocatori di Fortnite ragazzi Solo per quelli che stanno molto molto attenti ai dettagli Ed è proprio oggi ragazzi che voglio vedere insieme a voi le 10 location più particolari dei chest Che possiamo trovare nella mappa di Fortnite 10 posizioni, alcune sicuramente le conoscerete, altre magari vi suoneranno nuove Ma 10 posti dove quelli di Epic Games hanno voluto inserire dei chest veramente veramente molto ingegnosi Siamo subito ragazzi allora al primo chest Stiamo andando vicino a Palmetto Paradisiaco nella nuova sezione di mappa Ci dirigiamo ragazzi verso la city Quella più piccolina in poche parole Quella che stiamo vedendo mentre atterriamo Vediamo il nostro Palmetto Paradisiaco Grandissimo, enorme Ma a noi non interessa in questo momento Io voglio farvi vedere la città che c'è là dietro ragazzi Quella un po' più piccola, un po' più esclusa diciamo dai grandi fight Che oramai ragazzi Palmetto Paradisiaco sembra Pinnacoli 2 Ogni volta che scendi c'è sempre un sacco di gente a Palmetto Non si capisce bene come Quelli di Epic Games ragazzi hanno voluto c'è un lama là a destra in lontananza GG per il lametto ragazzi Il primo chest voglio farvelo vedere Intanto ce n'è uno qua assolutamente visibilissimo Ma forse non tutti sanno che entrando in questo edificio ragazzi Quelli di Epic Games hanno imboscato un chest sotto al pavimento E infatti ragazzi se scendiamo c'è una stanza segreta che ci permette di guadagnare il primo dei chest nascosti Secondo chest ragazzi anche questo in una posizione molto molto interessante Ci stiamo nuovamente dirigendo nella parte chiamiamola nuova della mappa Questa volta invece puntiamo dietro Palmetto Paradisiaco ragazzi Intanto voglio farvi una domanda Mentre lasciamo che il nostro Mega Epic scenda di prepotenza Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è l'oggetto che preferite trovare nei chest ragazzi Sono molto molto curioso di sapere cosa ne pensate Se noi ragazzi ci lasciamo Palmetto Paradisiaco alle spalle possiamo tranquillamente andare Là dietro quella montagna dove stiamo già scorgendo alcune rocce messe in bilico non si sa bene come Con dei cactus e ragazzi lo state vedendo c'è un chest là abbandonato a se stesso A volte ce ne sono due ed infatti a questo l'occasione per trovarne due Due chest abbandonati molto molto all'esterno Si può pensare di recuperare i primi due chest e poi buttarsi nel fight di Palmetto Paradisiaco Chest numero 3 ragazzi anche qui invece molto molto particolare la location di questo forziere Che forse non tutti conoscono come vedete ragazzi ci stiamo dirigendo al profondo stantio Noi li chiamiamo i magazzini muffiti per noi vecchioni di Fortnite ragazzi Dobbiamo cercare ragazzi il camioncino dei gelati Si ragazzi forse non tutti sanno che nel camioncino dei gelati nascosto nei magazzini C'è molte volte nascosto un chest Eccolo lì davanti a noi lo stiamo vedendo ragazzi il camioncino quello interrato nei gelati Vi ricordo ragazzi che tantissimo tempo fa questo camioncino era indistruttibile Ora invece l'hanno reso possibile lo stiamo sentendo ed ecco qua ragazzi Lo abbiamo distrutto però c'era il chest Sono sicuro che lo avete sentito Non ci posso credere C'era dentro comunque il chest ragazzi Bisogna stare molto attenti a non distruggerlo perché a volte vi invia col camioncino Chest numero 3 dentro qua Scusate per farvi sentire che c'è il chestino sentitelo Chest numero 4 ragazzi Uno dei chest assolutamente più imboscati in assoluto nella mappa di Fortnite Come vedete ragazzi stiamo sorvolando il bosco blaterante Non ci interessa il bosco quanto quello che c'è all'esterno del bosco E come vedete ragazzi davanti a noi oltre ad una fila di pietre c'è un camion assolutamente imbilico ragazzi Forse non lo sapete ma su questo camion guardate un pochettino Uno dei chest più difficili da prendere ragazzi Ecco c'è nascosto un chest Vi consiglio ragazzi di costruire ovviamente una piattaforma per evitare che vi cadano gli oggetti No ma in realtà rimangono su anche senza costruirla Quindi tranquillamente ce li possiamo prendere e siamo pronti all'azione Per andare a fightare eventualmente nel bosco blaterante Chest numero 4 preso Per il chest numero 5 ragazzi invece dobbiamo di nuovo buttarci nella nuova parte di mappa Quella insomma dove c'è il deserto Un chest che vi ho fatto vedere più di una volta in live Ma che forse ancora alcuni non sanno essere presente nel gioco Per trovare questo chest ragazzi bisogna andare nella parte più esterna della parte vicino a palmetto paradisiaco Quella in poche parole che dà ragazzi verso la prodo avventurato Dobbiamo atterrare ragazzi vicino al cammellone gigante con il cappello E come vedete ragazzi dentro alla bibita del cammello Ancora un paio di colpi Voilà c'è un altro chest pronto ad aspettarci Pronto a regalarci un bel po' di armi interessantissime Per il chest numero 6 invece ragazzi Non serve allontanarsi tantissimo da quello che abbiamo visto pochi secondi fa Dobbiamo ragazzi avvicinarci ed atterrare ad approdo avventurato La città che è stata inserita nella season 3 se non ricordo male Dove si voleva fare un omaggio al capodanno cinese Città che è stata sempre un pochettino in mezzo delle discussioni dei giocatori di Fortnite Perché alcuni dicevano la tolgono Alcuni dicevano la cambiano Poi addirittura è arrivata in questa season una skin che si avvicina molto alla cultura della city Il musha ovviamente E ragazzi quindi molto molto interessante Anche questa parte della mappa Dobbiamo andare ragazzi dentro la città cinese Dentro a prodo avventurato E davanti a noi ragazzi c'è un meraviglioso albero Che potrebbe essere un albero di pesco Perché se non ricordo male Gli alberi di pesca hanno i fiori rosa E guardate un po' Dentro all'albero ragazzi Dentro al tronco dell'albero Quelli di Epic Games hanno deciso di inserire un altro chest segreto Chest numero 6 Preso E proseguiamo ragazzi con il chest numero 7 Un altro chest molto molto interessante Per la sua posizione che molti di voi magari già conoscono Ma che alcuni forse non sanno dell'esistenza Per recuperare questo chest ragazzi Come state vedendo Dove c'è un Hanno parcheggiato un caddy sopra la montagna Per recuperare questo chest ragazzi Dobbiamo invece avvicinarci alla pista da go kart Quella che è stata sistemata in poche parole Nell'ultima season Prima era solo uno sterrato Adesso è diventata una pista E come vedete ragazzi In questa piccola struttura Che apparentemente Sembra non avere niente di interessante Se noi ragazzi buildiamo E andiamo fino sotto il tetto Potremmo trovare Nascosto nel suo interno Un piccolo chest Pronto ad accoglierci Pronto a regalarci Ancora un sacco di armi Molto interessanti Per il chest numero 8 Invece ragazzi Dobbiamo andare Nella nuovissima Tempio Tomato Una rivisitazione Come avevamo già visto Di una piramide maya Che poi tutti diranno Si chiama zigurat Si chiama zigurat Sappiamo tutti ragazzi Che in questa sezione di mappa Ci sono tantissime casse di munizioni E tantissimi chest Ma forse Non tutti sappiamo Che vicino alla casa esterna C'è una parte C'è una parte di mappa Molto molto interessante Se noi ragazzi Ci avviciniamo qua Come vedete Ci sono delle rocce Che si possono Tranquillamente picconare Picconando queste rocce Ragazzi E picconando anche Le rocce alte Appare una porta Che se noi spacchiamo Ragazzi Ci permette di accedere Ad una stanza segreta Che molte volte Contiene addirittura Due chest Segreti Ed è proprio A tempio tomato Che il chest Numero 9 Nascosto Lo possiamo Trovare Abbiamo visto ragazzi Quello che era nascosto Alle nostre spalle Anzi Due chest Che erano nascosti Alle nostre spalle Ma dobbiamo Proseguire Fino A raggiungere La parte dietro Di tempio tomato Ragazzi Per cercare Di recuperare Il chest Segreto Se noi spacchiamo Ragazzi Alla base Delle scale E scendiamo Troveremo Dentro qui Una stanza segreta Come vedete Non accessibile In nessun altro modo Se non Da questo buco Che è presente All'esterno E che da All'interno Ma che comunque Molto difficile Da vedere Spaccando Noi troveremo Ragazzi Il chest Segreto Numero 9 E ci siamo Fortunati Anche delle pozioni O delle munizioni Intorno Adesso E siamo giunti Ragazzi All'ultimo Chest Segreto Il numero 10 Ragazzi Decimo Chest Segreto Chest Che erano Solo per i Veri giocatori Di Fortnite Ditemi ragazzi Sotto qui Nei commenti Anche Quanti chest Non Non Conoscevate Per trovarlo Ragazzi Come vedete Stiamo scendendo Nuovamente Alla pista Da Corsa Pista da corsa Non so neanche se si dice La racing course E come vedete ragazzi Avvicinandoci A questa roccia L'ultima Prima del mare Troveremo Nascosto Un chest Che ci regalerà Ovviamente Delle armi Povera Mi se ne sono andate Vi conviene Recuperare Le armi Di questo chest In maniera Abbastanza veloce Altrimenti Se le prende Il mare Beh ragazzi Direi che Per questo Video Curiosità Sui 10 chest Più nascosti In Fortnite Siamo arrivati Alla fine Io vi ringrazio Tantissimo Per averlo guardato Mi raccomando Un bel pollicione In su Se ancora Non lo avete fatto Iscrivetevi al canale E noi Ci vediamo presto Ciao Grazie a tutti